Finisce sul tavolo della procura della Repubblica di Sulmona la vicenda dei palasporti via 25 aprile seriamente danneggiato lo scorso dicembre dai vandali a chiamare in causa la magistratura e l'assessore comunale allo sport Andrea Ramonno che si è recato all'ultimo piano del palazzo di giustizia per chiedere alla procura non solo di risalire responsabili degli ultimi danneggiamenti ma anche per studiare un meccanismo di controllo più incisivo sulla struttura. Negli ultimi tempi il palazzo è stato preso più volte di mira questi episodi non devono più ripetersi per questo oggi mi regherò in procura finché i magistrati si attivino con le forze dell'ordine per potenziare controlli su un'area frequentata da associazioni sportive decine di famiglie e ragazzi annuncia Ramonno. L'assessore punta non solo sulla repressione degli atti vandalici ma anche ovviamente sulla prevenzione per questo nella struttura del palasporti via 25 aprile sarà presto installato un rilevatore di presenze un beige che permetterà di controllare ingresse e uscite in modo tale da tenere sotto controllo la situazione. Resta il problema dell'intervento in carico al comune come la riparazione del tetto visto le recenti infiltrazioni balzate alle cronache che nelle scorse settimane avevano rischiato di far sospendere una gara del campionato volley.